Svolgiamo anche attività di formazione e di ricerca, innovazione tecnologica. Qual è l'ultimo progetto a cui state lavorando? Il progetto principale che abbiamo sviluppato proprio recentemente sui nostri centri della città di Roma riguarda l'apertura di una RSA, una Residenza Sanitaria per Anziani, presso il nostro centro della Provvidenza. Si tratta di 60 posti letto dedicati agli anziani, in una struttura completamente rinnovata. recentemente, proprio il primo di giugno ultimo scorso, inaugurata dal Presidente Polverini. Ci puoi spiegare come funziona la maglietta Magic? La maglietta Magic è un pochino il nostro fiorello occhiello dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. È un sistema indossabile e intelligente che consente di monitorare a distanza una serie di parametri vitali che si tratta dell'elettrocardiogramma, dell'analisi del respiro e del cammino. Bene, vi occupate anche di formazione? Sì, come accennavo prima, l'attività formativa è molto forte. Nella nostra formazione è rivolta sia a operatori interni che a operatori esterni, su tutta la tipologia di attività che noi svolgiamo e per tutte le patologie che noi gestiamo. E ci sono anche molte sedi in Italia? Abbiamo 29 centri disseminati in nuove regioni italiane e abbiamo anche in corso potenziali nuove aperture per entrare in nuovi mercati su nuove regioni. Quando nasce questa fondazione e perché? La fondazione Don Gnocchi nasce dall'idea, nel secondo dopoguerra, del nostro fondatore Don Carlo Gnocchi. Cominciò lui con i primi centri a costituire questa nuova attività, centrandola su una nuova idea della riabilitazione, come una riabilitazione non solo di tipo motorio, non soltanto del fisico, ma anche dello spirito, partendo ovviamente dall'afflato cristiano che lo muoveva. Avete anche attività convenzionate con la regione? Il 95% delle nostre attività su tutta la nostra nazione è convenzionata col sistema sanitario nazionale. Offriamo anche servizi in regime privatistico per quasi tutte le tipologie della nostra offerta. In che modo noi cittadini possiamo aiutare a collaborare con questa fondazione? Beh, tipicamente nel periodo del pagamento delle tasse attraverso il 5x1000 che noi già rileviamo in maniera importante attraverso il nostro ufficio che si dedica al fundraising e alle sponsorizzazioni, che è contattabile in qualsiasi momento. Si tratta di un ufficio presso la Presidenza, la sede a Milano. Un'ultima domanda, qual è il prossimo vostro grande evento? Allora, alla fine di novembre qui a Roma ci sarà un convegno molto importante che tratterà in specifico le patologie del racchide e la scoliosi.